Rivelazioni shock, i resti di Roberta Ragusa si trovano nel Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. Undici anni dopo la tragica sparizione di quegli occhi azzurri, finalmente la giustizia ha fatto il suo corso. Questo è quanto ha dichiarato la cugina di Maria Ragusa sui social. Ora, ci aspettiamo che il marito dia finalmente informazioni sulla posizione dei suoi resti, affermano con fermezza gli avvocati della famiglia. Purtroppo, si riferiscono solo ai resti, poiché il corpo è stato più volte confermato dalle decisioni dei giudici come ormai distrutto. L'autore di questo terribile atto, Antonio Logli, è stato condannato a vent'anni di prigione. Mercoledì scorso, la Corte di Cassazione ha respinto categoricamente il ricorso presentato dalla difesa di Logli contro l'ordinanza della Corte di Appello di Genova, la quale aveva rigettato la sua richiesta di revisione della sentenza di condanna. Di conseguenza, sembra che non ci saranno ulteriori processi in questo caso, almeno per il momento. Tuttavia, dallo studio legale Vernazza, che ha rappresentato l'ex dipendente comunale durante questa lunga procedura giudiziaria, rimangono fermamente convinti della validità dei nuovi elementi emersi. Per ogni sei mesi di pena, si concedono 45 giorni di sconto per buona condotta, come ha spiegato l'avvocato Nicodemo Gentile dell'Associazione Penelope, che ha seguito da vicino il caso dei cugini di Roberta. Nonostante ciò, il periodo di detenzione rimarrà a lungo, data la gravità del reato. Roberta è stata una vittima terribile della lupara rosa. E la domanda che persiste è, dove si trovano ora i suoi resti? Sappiamo che non sono lontani dalla sua casa, ed è lì che abbiamo chiesto di iniziare la ricerca. E tu cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.